Occasionale accessorio che è appunto la norma modificata del 2009 che possono essere svolte da chiunque, come le ho detto appunto per esempio l'attività di babysitter, ripetizioni scolastiche oppure altre categorie di attività. Sono i vantaggi e per il datore di lavoro e quelli invece per il lavoratore nell'utilizzo di questi bambini. Ma i vantaggi li paga il datore di lavoro nella quina che ha una procedura cartacea molto semplice attraverso l'Inps. Lo ama follemente. Dammi un esempio di coppia fasuli. No, ma io non capisco proprio la cosa voglia dire. E all'interno, intanto c'è la dichiarazione di Loretana Lecciso perché molti hanno detto l'ultima volta che lei ha fatto è tornato il sereno tra i due. Andiamo avanti. Plena il sole. Coppie fasulle, coppie non... Il dramma di Camila, la clone di Belen Rodriguez. E così. Bene. Quindi a secondo dei punti di vista noi abbiamo una visione piuttosto... non era le mani sudate. Andiamo avanti. Adesso ci siamo, no? Cosa bizzarra, no? Copertiamo in questa foto... Stavolta si sposano, scusa, del destino. Gianmarco, il nome parla di una pancia che dovrebbe arrivare vicino al ministro di guerra che ritroveremo domani. Adesso che tempo fa? Che tempo farà? Colonnello, Laurenzi, a lei le previsioni. Portare Balotelli in azzurro, lui già gioca nell'Under 21 ma vederlo in mondiali, in un paese che esistono neri italiani e che saranno sempre di... Troppo è una realtà. Non è fastidioso solo per Mario, è fastidioso per molti altri giocatori che hanno anche la pelle bianca. Ha sbeffeggiato che durante la partita questo capitano marocchino è salito durante l'intervallo in tribuna. Tre minuti e dobbiamo in qualche modo tirare le fila di questa nostra chiacchierata. Liverani, Ferrari hanno militato in nazionale. Perché secondo te, poi secondo Aldo e Idris, Lippi ancora non... Lippi può fare quello che vuole. Dico solo una cosa rapidissima. Ma ci volevo dire prima... Adesso 5 dicembre si dovrà giocare la partita a Juventus, Inter e Murigno spera, gli piacerebbe... Se non sarà possibile. E allora, perché? Si preannuncia esplosivo questo incontro? È un altro tentativo, no? Per destabilità... Noi ci saremo! Campi, Taramo, Silvia, Laura, Scuzzato. Buongiorno, professore. Siamo giunti allo spazio delle... Qualche problema con il nostro figlio? Ci sembra geloso della sorellina. Ed è aggressivo. Cosa mi consiglia? Come dobbiamo comportarci? Certo. La gelosia del fratello maggiore in questo... Quando ha una fantasia di questo tipo, il volto non lo vede. Non lo vede il volto. Lo vedo soprattutto come madre e non più come moglie. Mi sento legatissima a mio marito, ma non ho grande desiderio. Si può amare senza sesso. La ginnica di una sessualità prestazionale. La mazzara del vallo. E ancora, dopo 42 anni di matrimonio, ancora... Andiamo avanti. Secondo me l'amore non è chiedersi cos'è l'amore. 348-095-9384. Scrivete d'amore. Anche Federico Moccia può scrivere, eh. Tanto riconosciamo da scrivere. Grazie, 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 professor Bocci. Grazie a tutti. O in qualche modo risolvere un dubbio amletico. Sì. Che mi metto per andare fuori nel weekend? Che mi metto? Che mi metto? Il pigiama. Ma no, vediamo la soluzione. Magari c'è qualcosa di bello fra quello che hanno scelto le nostre. Jolly, che sia una tragedia scegliere la scarpa da portare in valida. È una tragedia, è una tragedia. Va bene con la pioggia. Buongiorno. Vabbè, volevo chiedervi se...